ciao a tutti io mangio insalata in cena adesso io sto leggendo un libro e poi dormire sono d'ora a tutti ciao a tutte io preparo il caffè con mocha anche c'è un bicchiere il caffè è pronto da bere ciao ciao a tutti adesso io prepara il pane dolce guardare te lo darò quando sarà pronto ciao a tutti questa la zuppa di verdura è pronta auguri auguri scusa una buona cena a tutti buonasera ciao a tutte oggi fa bello nella nostra città paliano e respiro un'aria pulita buona giornata baci ciao a tutti guido a casa torno a casa dopo fare la spesa oggi fa bello buona giornata baci buonasera ragazze sul suggerimento del nostro amico fai rose adesso voglio fare una una zuppa di verdure e polo ok con cipolla passata di pomodoro aglio e spezie allora prima di tutto tritto la cipolla con l'aglio e poi li friggio con polo e le spezie nella pentola adesso friggio la cipolla con con il polo e l'aglio e aggiungo e dopo aggiungo le spezie curcuma un po cannella e pepe nero e sale adesso il nostro polo ha il sapore delle spezie ora aggiungo passata di pomodoro poi aggiungo le verdure e acqua nella nostra pentola e adesso aspetto che sia pronto ciao 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 a tutti sto preparando del school da francia da arancia fresco mi piace quando giocano loro buonasera a tutti questo è il mio acquario questo pesce arancia un anno questo pesce bianco teranni dieta buonasera a tutti oggi io ho preparato pasta perna con pomodoro carote io ho preparato anche una dolce nostro paesiano tipo ricotta grazie buongiorno a tutti io oggi preparato farò insieme a verdura un pochino pesce sono l'unico piatto oggi ciao 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 a tutti io oggi ho preparato merendina tè verde tè verde biscotti cereale biscotti cereale poi niente dopo un po' frutta e basta io oggi molto contento perché è venuto oggi a casa presto perché oggi è finito il lavoro presto presto è venuto a casa pensiamo e pensato e piccoliamo un po' merendina leggera e basta grazie ciao a tutti non lo so io come ho fatto il video quella prima volta ciao ciao buongiorno ciao a tutti ciao a tutti Buongiorno a tutti, con una mattina preda e più boza Ciao a tutti, sto canando, sta chiuvendo Buongiorno a tutti, oggi mi sono svegliata alle sette in punto Adesso porto i miei figli a scuola Adesso sto a casa, vorrei fare la mia collezione Accendo la macchina del caffè Metto la capsula Prendo la tazzina Per fare il caffè Mi piace il latte macchiato, anche il cappuccino Questo è il latte caldo Ecco la mia colazione Un cornetto Prendo un pizzazzino di ciambella Questa ciambella ho fatto ieri Ecco la mia colazione Per solito faccio la colazione con mia amica Però oggi non c'è Faccio la colazione da sola